GSU non era vegetariano. Invece Hitler è sei parentesi chiusa. Terrificante polemica perché ho confessato che mangio le rane. Video. Porta a porta contro i fasciovegani. Di Silvana De Mari. Quando ho confessato che mangio le rane. È tipico del Piemonte e di qualsiasi zona che abbia risaie. È scoppiata su FB una terrificante polemica. La polemica riguarda il mangiare carne e quanto sia cattivo uccidere gli animali. Tutti, incluse le zanzare. Gesù Cristo non era vegetariano. Chiunque affermi che essere vegetariani sia meglio che essere normali. C'è scritto proprio normali. Esiste una norma in biologia. Noi siamo onnivori. Si sta dichiarando migliore dei suoi antenati. Cacciatori raccoglitori. Della nonna che faceva l'arrosto per Natale. Del cristianesimo. Si sta dichiarando migliore di Gesù Cristo. Se voi siete contenti di essere vegetariani. Vi trovate bene mi fa piacere per voi. Ma che sia eticamente superiore per favore eliminiamolo. Non fate fare diete criminali ai vostri figli che sono onnivori. Ai vostri cani e gatti che sono carnivori. Le volpi mangiavano le nostre galline e noi mangiavamo loro. Tra l'altro. Sono nata negli anni 50. Noi gli orsi ce li mangiavamo. Loro si mangiavano le nostre pecore e noi ci mangiavamo loro. A spezzatino con i chiodi di garofano. Anche le volpi ci siamo mangiati. Loro mangiavano le nostre galline e noi mangiavamo loro. Avete mai visto un pollaio attaccato dalle volpi? Non è vero che l'animale uccide solo per mangiare. Uccide anche per il piacere di uccidere. Quando la volpe entra uccide tutte le galline e se voi siete un contadino. Quello vi ha annientato. La mamma di Red? Me la sono mangiata io. Sempre a spezzatino. Ma senza chiodi di garofano. L'irrazionalismo di considerare gli erbivori migliori. Eticamente superiori rispetto a chi mangia la carne nasce dai film di cartoni animati con Umanizzazione degli animali e da una precisa corrente di anti-umanesimo Di odio per l'uomo visto come bestia infestante per il pianeta È una delle cause della catastrofe emotiva attuale. La perdita di identità Inclusa l'identità umana Creatura onnivora Appartenente a una civiltà che viene rinnegata come cattiva Non è amore per gli animali È odio per l'uomo e anche analfabetismo scientifico incapace di capire il concetto di ecosistema Dove i carnivori sono importanti quanto gli erbivori Quanto i saprofiti e nessuno muore di vecchiaia perché appena non riesce più a scappare viene Sbranato La morte fa parte della vita Chi odia la vita è talmente terrorizzato dalla morte che anche schiacciare una zanzara sembra Troppo Noi ci relazioniamo con cani e gatti che sono carnivori perché la capacità di relazione si crea Sulla predazione Gli erbivori brucano l'erba ognuno per conto suo e non si relazionano gli uni con gli altri La comunicazione nasce nella caccia e noi non siamo erbivori Non siamo vegetariani Chiunque lo sia sta negando la sua umanità Sta negando la sua biologia Si sta creando la posizione di essere il più buono del reame così da compensare le sue insicurezze Siete vegetariani? T e n e t e v e l o per voi Siete vegetariani? Tenetevelo per voi E ricordatevi di prendere del ferro Non venite a dirmelo su questa pagina Questa è una pagina di una persona che non solo non è vegetariana Ma che ha opinioni sempre più perplesse in merito Cristo non era vegetariano e Hitler si vantava di esserlo Voi siete più buoni e più etici di Gesù Cristo? Non scrivetelo qui Levatemi l'amicizia e andate su pagine più adatte a voi Avete pianto più lacrime per il gorilla piuttosto che per 11.500 cristiani massacrati in Nigeria Negli ultimi due decenni Il leone Cecil vi ha commosso più dei bambini dello Zimbabwe Due o tre l'anno che muoiono sbrannati dai leoni? Non ditemelo Non lo voglio sapere e prendiamo tutti serenamente atto che questa pagina non è per voi e cercatene Una più consuona Per inciso Anche i batteri sono creature viventi Quando incidete un ascesso e buttate fuori il pus Ne uccidete i milioni E l'antibiotico? Nica ne avete preso? Comunque Mi dispiace calugnare un morto Ma pare quelli del National Geographic abbiano in mano un documentario dove Cecil Il leone il compianto sbrana un ognun neonato Le gazzelle del Serengeti hanno raccolto firme per dare il Nobel della pace al dentista Per il quale un esercito di pacifisti contrari a qualsiasi violenza ha invocato la pena di morte Gli allevamenti intensivi sono sbagliati Deve essere vietata la fecondazione eterologa per le vacche e una gallina deve essere libera di Becchettare E questa è una causa giusta per cui è necessario battersi Ma non scrivete cose insensate Se con mezzi naturali si fermassero le zanzare La malaria non esisterebbe Non esisterebbero le innumerevoli malattie anche mortali trasmesse da zanzare, zecche e pidocchi Malattie che sono state fermate grazie agli insetticidi Qualsiasi medico abbia lavorato in Africa e abbia avuto a che fare con la malaria non ama i Protettori delle zanzare Voi non le uccidete? È una scelta vostra L'apparente compassione diventa odio per l'uomo Nell'ultimo elfo Iorce è vegetariano e molto compassionevole perché non è umano Per diventare un uomo mangia carne e così acquisisce l'umanità Voi siete uomini e donne Noi siamo la nostra violenza La nostra compassione La nostra vigliaccheria Il nostro coraggio e anche la nostra ferocia Non rinnegare nessuna parte della mistura Un istinto negato diventa patologia Amate l'uomo perché ha capacità di sofferenza infinita Amate gli animali Amate la natura Se mangiare carne ricordate che un animale è stato ucciso Quindi è un gesto sacro Ringraziate e pregate prima di mangiare dopo e poi guadagnatevelo La vostra vita è costata la morte quindi non può più essere vuota Non può più essere sprecata Non può più essere buttata via Mangiare è una gesto sacro Come sacra deve essere l'unione di un uomo e una donna Sacra l'uccisione di un animale Perché il dolore e la morte non devono essere sprecati Ma nemmeno negati Perché altrimenti la vita si ferma e l'apparente compassione diventa odio per l'uomo Nota di bastabuge Imperdibile video con Giuseppe Cruciani che si scaglia contro i fascio vegani Nella puntata di Porta a porta del 21.9.2017 017 Grazie a tutti.